Occhio che qua Il livello è altissimo Giuro che è altissimo C'è un livello oggi Siamo giocatori di calcio veri Elite League I Red Blood Trovano l'equipe De Napoli Ugo Ancona Affronta Capitan Viser Petros Questa domenica 24 marzo 2024 Nella 24esima edizione dello Sbordone League Comincia l'Elite Primo appuntamento di giornata Calcia e Sarracino Deve intervenire C'è la conclusione di Capasso Non so, a me non mi risponde Sta venendo, però dicono C'è l'equipe Che alla prima partita Uscita sconfitta E invece ci sono I Red Blood Che di punti ne hanno già maturati Quattro Il pareggio nella gara d'esordio 1-1 contro i Coca Junior La vittoria di una settimana fa Contro i Frocinone Tre reti a uno Doppetta di Petro La squadra di Ancona invece Ha giocato 14 giorni fa Il primo appuntamento Contro i Coca Versari in comune Hanno perso 4-2 In una liga in cui i Coca Junior Sono già disputato Tre appuntamenti Sono a sette punti In vetta Alla classifica Dopo tre giornate Questa settimana Sarà anche l'esordio Della decima squadra Quella che sostituirà Il Napoli Campione in carica Il Chelsea Di Gigi Cicchitto Mancini prova Marchese risponde Formazioni Questa domenica Round numero quarto Quarta settimana Della 24esima edizione Sbordoniamo E allora Fala che esce Formazioni Dead Blood Marchese in porta Il centro corona Ai lati Giuliano Petrov Comincia Destra Rullo a sinistra Centrocampo a tre Con Gigi Capasso Manu Picardi E Giuliano Petrov Perché il terzino destro Enzo Picardi Avanti Biser Petrov Tutti completini Nuovissimi Quelli dell'Atletico Madrid Mentre L'equipe Veste Con il nuovo Completino azzurro Leggea Tutto bello Mancio Carica il destro Parata di Marchese E allora Per l'equipe Saracini in porta Per ora al centro Al destra ancora Al sinistra Napoletano Centrale Abbatiello Lì in mezzo Mancini Mezza la destra Marco Lanza Mezza la sinistra Perché credo L'equipe Stia attendendo Qualcuno Che ha fatto tardi In avanti Tipaldi Che l'abbiamo visto Con i baretti Due settimane fa Abbiamo visto invece Mancini Con i baretti Una settimana fa Insomma Si stanno Un po' Interscambiando I giocatori I baretti D'equipe Una volta Anzi Per due stagioni Sono state una cosa sola L'equipe De baretti Adesso sono due stinte Separate Marchese mette in corner Questa sassata Che arrivava da sinistra E Calcio d'angolo Per la squadra di Ugo Cross Lanza si coordina Mancini Per Ugo Marchese Su K11 Per chi volesse andare C'è un grandissimo Pepe Shower Sempre da qua Lì In fondo Allo schermo E allora Appuntamento Delle ore 19 Che start Siamo Quasi nel cuore Del programma Sbordoniano Si concluderà Alle ore 23 13 Appuntamento Un programma Si concluderà Alle ore 24 In verità A chi lo devo chiedere A Camilla Ciao Camilla Che facendo le foto Si Buono Già tu Mancio Gioca su Corona Chiude Ti fanno Eccolo Mister Capasso Mister Ma ti sto chiamando A due ore Ma come Tempo Spento 2024 Che vuol dire Andiamo dal mister Andiamo dal mister Che è importantissimo Devo parlarvi Ancio di Sarracino Colpo di testa di Rullo Palla alta di Mancio Cade dalle parti di Marchese Che aguanta la sfera Mister Vi è qua Ti ho contattato Il mole è picciato Si Non sai già se è lì Ma c'è Come dire Che volevi di fare Allo se mi sbaglia Lavoravo Gli ho detto C'è io Ok Rullo C'è con cross deviato Giuliano Petrov Pede la sfera Poi abbatendo Stevao Finta il passaggio dietro Poi lanza Sul Picardi Senza fallo Ma tu giochi Tutta la partita E sto aspettando No no Siamo montati E di chi è l'altro C'è abbatendo C'è appartendo C'è appartendo Se il fattore C'è al primo Antonio L'amoroso Mi lanza Dovrà giocare Tutta la partita Occhio Questo gruppo di scena Nell'equipo Perde un uomo Pradente sul campo Calciati pal Di Palata di Marchese E allora Io l'ho chiamato Piore Perché ha il nome Di Tromaio Giovanni D'Amuro Adesso Dobbiamo andare Un attimo Un video Guarda chi c'è Sui nostri campi Gianni D'Amuro Palla lunga Palla lunga Piser Prova Gran controllo Fondo Ok quindi L'amberlande 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 La va a vedere La va a vedere Il direttore di gara Giudicata Trattenuta Quella di D'Amuro Su Petrov Mette il pallone Sul dischetto Giuliano Petrov E spiazza Veramente tante volte Tante volte L'immagine Il direttore di gara Calcia Fuori Picardi Batiello Tipaldi gira tutto qua Usciva di dietro Abba di testa Picardi dietro Verona Fa uscire Marchese Poi Rullo Si va la Marchese Alle mie spalle Golla lo Sbordone K Di calcio a 5 Per il torneo del BN Del liceo Sbordone Che in Questo 2024 È tornato sui nostri schemi Abba di testa 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 Giro palla Equipo Muro per Tipaldi Che cerca la Bomba Mamma mia Che missile Palla che passa Filli Con Petro Che aveva toccato Forse Giuliano In inserimento Ancora Ancora E di là Ruota dentro al campo Tipaldi su di lui Cede palla Cede palla Manu Picardi Taglia al campo Taglia al campo Si accentra Gira per Estevao Dentro tutta di prima Per Lanza Recupera Picardi Perenzo Perenzo Petrov Recupera Estevao E poi Mancio Lanza Tipaldi chiuso Napoletano Napoletano Da muro Tipaldi Contro due Nasconde palla Li rimane entrambi là Ancora Armando Tipaldi Per Estevao Da muro Di nuovo Armando Sbaglia il tocco di prima Ricco questa palla Sul secondo Ancora Armando Mancini Da dietro Fuori Corona Raso per Biser Protegge sull'attacco Di da muro Sarà un duello Fisico Che Ricorderemo Questo tra Da muro E Petro Passi Passi Andrea sta All'Andrea Ma no Ha fiappato A Gennarotto Sta combinando Capasso Tutta dentro Salvate Genni Perna Che sta Scena Che stai facendo Genni Si è incastrato Vado Poverito Vediamo Abadilla Da muro Tutta su Marchese Brullo Girata Fallo di Mancio Palla lunga Di Marchese C'è una deviazione Di Ancuna Che della mano Biser La va anche a rivedere Il direttore di casa Nel rigore La braccetta È abbastanza lungo Linea Il corpo Pisce involontariamente Con Con l'Ulna E il radio Insieme Col polso Ugino Corona Picardi Perenzo Picardi Contro la compagna Genia Batella Persone Dentro al campo Scarico per Ancuna Gioca su Per Armando Che deve agganciare Questo pallone Con gli straordinari Fatto proprio e via E poi Ancuna Su Gigi Granduello Ai 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 Contro tratti Italia E poi Ancuna Contro Biser Con occhiataccia Di Ugo Adalbis Io ho visto solo Ugo Che sbattiva Contro tutti E poi è tosto E poi è tosto Polito Polito Che è entrato da poco E un po' Fondo Arracino Arracino Gioca su Gigi Pass Marchese La volle lunga Rullo La palla arriva Estevao Con lo stinco Per Lanza Di prima Dentro al campo Ingestibile Ingestibile questa palla Fallo su Abbattito Ammutinamento Del Wimbledon Stasera Festa Tipaldi Per Mancini Tocco dietro Capasso Recupera Prova a innescare Biser Sarracino Mancini di prima Ancuna C'è Lanza Che vuole il pallone Picardi Chiude da muro Sarracino Raso Abbattiello Già pressato Liberato Estevao Quanto corrono I so travel Quando non c'hanno palla Vanno subito Sull'uomo più vicino Impressione E in contrasto Abbattiello Salta Petrov Tiro Che gol di Genne Abbattiello In buca D'angolo Con un tiro Di destro A uscire Si fa lungo Si conclude Il primo tempo 1-1 L'equipe ritrova la parità Parte Marco Lanza E comincia la ripresa Tra l'equipe De Napoli Maglia azzurra Cutroso travel Maglia atletico Madrid C'è un calcio Con il cielo Tipaldi Alzamarchese Andare 2-2 0-0 1-1 1-1 Risultato Ping pong di testa Rimessa laterale Lì Ancona Punizione Saracino Gioca su Fondo Occhio al pallone Che passa Polito in aria Sponda Per Piser Arriva però Abbattiello dal nulla A rubare palla La scena La scena La scena La scena Portare qua Poi Picardi La rimessa Per la Nessua Messo il piede Sul pallone E il pallone E il pallone è uscito Con le mani Estevão Dentro al campo Mancini Prova qualcosa Una mezza sponda Picardi De via Angolo Questa cosa mi dispiace Un po' Stiamo diventando Troppo seri Lanza Rimpallo E Rimessa Picardi Picardi Palla che esce Cade Mancini Da muro di testa Poi di piede E poi Polito Che prova a scappare Ancora da muro Per Ancona Ultimo uomo Passaggio centrale Colpito Picardi Poi da muro Abbattuto Punizione Cambiato Qui Disimpegno di Tipaldi Così così Di partenza So travel O Red Blood Lanza Ammazza Picardi Attenzione Poi lo abbraccia Ma non serve più a niente Ma che lo abbracci così Ma non lo conosci Lascialo stare Giovanotto Sei in una difficoltà fisica Estrema Magari 57 anni Ma la voi smetti Vediamo Gigi Col 10 In barriera Occhio a lui Alta Io però voglio Al giro nel Wim Come devo fare Come devo pagare Come devo pagare Come devo pagare Come devo pagare Deve diventare Ne a bandiera Come devo fare E' convincibile Che fai Senza stampa Come lo so Che è tuo cugino E' amico di Giuseppe Ah in scena Con i cuginetti Quindi Capasso Tutti quanti Non si appartengono Con poi scena Di nuovo da muro L'attenzione Di mestiere Ma con impatto Quindi rinasce una punizione Dove Rullo però Sposta un po' il pallone E allora Il direttore di cara Lo rimette Come non era prima Due in bariera Li guida Sarracino Ricorsa Sinistro Da muro Salva E poi Torsione Rinvio di Estevao Petto di Picardi Allontana Abbatiello Grande aggancio Di Manu Anchetta di Tipaldi Lo pallone altissimo Giganteggia Con i pugni Sarracino E poi allontana Estevao Lanza Sponda Aia Ammazzato di pallone Da Pulito Giallo e Nari Ciao a noi Non mette il Prova Manu Fuori Corona Polito Si gira Riesce a toccare A Enzo Picardi Tiro cross E piedone di Sarracino Palla sull'altro fronte Anzi Sull'altro lato del campo L'altro fronte Che sarebbe la rea di rigore avversaria Palla dentro Testa e testa Picardi di coscia Mancini Anzi Enzo Senza fallo là Palla che rimbalza Forse fallo là Ma comunque Si continua Poi palla persa Un po' di errori Cosa un po' confusa Del match Alla fine Si risolve Con la rimessa Laterale Qualche protesta Dei Redblood Volevano un fallo Sul Picardi Che esce un po' Malconcio Da quella situazione Sponda di Petrov Tiro di Gigi Parata di Sarracino Abatello per Estevau Intervento scivolata Sul pallone di Polito Anche se rudo Anzi Rude O ruvido Fate un po' voi Ancora di qua Verso Abatello Messo un po' in difficoltà Cambia di nuovo Gestione un po' strana E l'equip Alla fine Angolo rimesso Angolo Gigi Morbida Secondo palo Testa di Abatello Uscire Si coordina Rullo Fallo in attacco Altro calcione Subito Tipaldi Questa fa male Questa fa male Eh si Stanno Vierendo di dolore Alle tibie Per i calci Si stanno dando Queste due squadre in campo Al volo Non male Ma fuori Lancio di Marchese Cade dalle parti Di Rullo Trova Capasso Si stringono le maglie azzurre Da muro Mancini Anzi Ancora Anche Capasso Il mister lì fuori A caricare i suoi Erano i Galacticos Nel primo viaggio sbordoniano I ragazzi di mister Capasso Era un mix Tra quelli che poi sono diventati I Red Blood E il Soul Travel In una stagione in cui Si sono divisi le strade I Red Blood Militavano in Elite I Soul Travel In Major Vinsero la Liga Poi Di nuovo Sotto la guida Dei Red Blood E adesso Sotto Il nome di Red Blood Ma i protagonisti Sono i Soul Travel Qua però si discute Ne nasce quindi Una punizione Fallo e di mano Di Picardi E Tipaldi Mette fuori Non c'è la giocata corta Dice Marchese A che di lui Stiamo salvando Le clip Delle migliori parate Anche nelle edizioni passate Per farne poi uscire Un video focus Nei prossimi giorni Nelle prossime settimane Così come stanno Ritornando alle top reti Dei precedenti viaggi sbordoniani Occhio perché Chiedono una mano Io sto Raccontando qualcosa E sono distratto Vediamo il direttore di casa Va a vedere E allora Non c'è l'inquadratura Giusta E magari Forse Non lo so La di abbendata Magari sul primo rigore Qualche dubbio Anche su questo Diciamo due dubbi Per i Red Blood Hanno totalizzato Un calcio di rigore Se da una parte Più o meno L'immagine ci ha aiutato Questa volta Eravamo messi In una posizione Non consona Jenny Perna Come l'ha vista Tanto c'è un tocco Polito crossa A rimorchio Biser Tocca per Manu Gran ritmo comunque Questa gara C'è un cross Arriva Polito Palo Biser Non entra Incredibile Rimane là Stavano Assurdo Io la palla Non l'ho vista Tu l'hai vista Sul palo Incredibile Occhio perché c'è L'anticipo lì Di Mancini Su Marchese Nonostante Corona Che abbia messo Il corpo davanti Qui Mancio ha ragione Però Riuscita a pizzicare La sfera Manu Occhio che pizzica Secondo me qua Mancio aveva ragione Lanza ride Tipaldi Allontana Rullo Polito E poi Prova a uscire Stevao Ora è capasso Il suo avversario Picardi Dentro tutta Polito Non arriva a calciare La palla è alta Testa di Biser Polito Gira Murato Enzo Picardi Di là Poi ha battuto Ci fallo si continua Mano al pallone Dentro Biser di petto Tocca fuori Abbatiello Tutta su Clamoroso C'è Tipaldi Tutto solo Ha segnato l'equipe In contropiede Armando Tipaldi Clamoroso Quello che è successo In questi Trenta secondi Con i red blood Vicinissimi alla rete Sbatte sul pallo E poi contropiede Non lo so Non penso Trenta secondi Penso manchi Ancora Qualcosa Sì Almeno sette Direttore di gara Quanto manca? Nove Alla fine Nove Alla fine Dal possibile 2 a 1 L'equipe Da DeVisto Travel Red Blue Da 2 a 1 L'equipe Tutte e 30 secondi Occhio ancora L'equipe Allo spazio Il direttore di gara De ferma del gioco Picardi Legge Abbatien Tocca per Lanza Occhio a Tipaldi Lanza Prova lui Male Le cadenze Nonostante ha 18 anni Ecco Lanza Che cerca di pal Di tacco dietro Riesce a nescare Abbatiello Che allarga Il gioco Ancora per Lanza Corona In qualche modo Fatta Mi si arrabbia con i su Rimessa battuta Lanza Sotto le gambe L'avversario marchese Attenzione Pasticcio Di Baldi Palo col camoroso 3 a 1 Pasticcio Lì Dei Red Blue Ne approfitta Armando Ruba palla Fa doppietta Partita apertissima Però Perché manca comunque Del tempo Bolito Sulla testa di Armando Che ha preso calci Pallonate Ha segnato la doppietta Incredibile Un giocatore Incredibile Tipaldi Una presenza Nei baretti In questa edizione Una nel sesto Assensio Quando fece la tripletta Con la squadra Di Castaldo Tra l'altro Contro L'Olympique Miano Che è stato poi Il match Di oggi Dove I Gunners Hanno abbattuto La squadra Di Castaldo E non c'è Picardi Fuori No C'è il ginocchio Blocca Va da Gigi Controlla Iaiaiai Abbattuto Fallo di Ancona L'ho battuto già Perché Picardi Ha allargato il gioco Palla dentro Da muro Mangiato Palo clamoroso Capasso Rimescola E poi c'è un piede Un tiro Rete Polito Bombone 3 a 2 E' una partita Che può scoppiare Da un momento all'altro Da muro si arrabbia Voleva fallo Anche se Sembra pulito L'intervento In cui Vado i piedi Sul pallone Il giocatore di Redwood Vediamo un po' Battono Eravamo un attimo in pausa Battono i ragazzi dell'equipo Blocca Marchese 3 a 2 Dicevamo Una partita che può scoppiare Da un momento all'altro Sta succedendo Ed è successo di tutto Molto contestato L'episodio del gol Del 3 a 2 Mentre Calcio d'angolo Io ho perso la bussola E l'orientamento In questo momento Palla dentro Mamma mia Nessuno la tocca Calcio d'angolo Cross Di nuovo Basso Polito da fuori Murato da Mancini Con le mani Polito Secondo palo Rimane la clamoroso Murato Colona Scappa Abbatiello Resiste Va giù Sul pallone Manu Picardi E poi Estevamo Sul pallone Polito Desterno Capasso Si gira Uscita di Ancona E fallo Di Gigi Che partita Palla di là Palla a Tipaldi Attenzione C'è Lanza largo C'è Mancini In aria di rigore Palla per lui Testa e testa Marchese Mani piedi Un po' bassa Colona che è diventato Attaccante Come faceva I vecchi tempi Come quando I Sotravel Vincevano la Major League Due edizioni fa Palla dentro Con le mani Testa di Lavoro Arriva Rullo Uscita di Mancio Rimessa Mani dentro Occhia a Biser Corta e Salta Ugo Tipaldi Mette giù Lancio per Lanza Due contro uno Riccardo Tipo Uomo Enzo Sta arrivando anche Ancona Lanza Sbaglia Angolo Guadagna solo angolo Battuto il corner Corto Abbatiello Si accentra Rivada Tipaldi Tacco per Lanza Tutto chiuso Vada Ancona Palla difficile Corona Piede di Estevao A salvare tutto Poi sprinta Difende palla Sterza Tocca per Tipaldi Vada Abbatiello Che la tiene Galleggia sulla linea di fondi laterale Tipaldi Uno due Ancora Abbatiello Nasconde palla Numeri Gennaro Abbatiello Chapeau Incredibile Esagerato Quanto manca Pia Da brividi La rete Che forse Chiude il match Quattro a due Picardi Fuori In un momento in cui la partita Era in un equilibrio Incredibile Un 3 a 2 In bilico Fino all'ultimo Redblood Equip Armando Armando è fortissimo Armando è forte Ma oggi Abbatiello Che illumina la scena Con i gol del 4 a 2 Che forse Consegna i tre punti All'equip Ma ancora C'è ancora Redblood In campo Che ci prova C'è una caduta Nell'area C'è Enzo Picardi Palla che esce lì Trolla il cronometro Del direttore di gara Questa quanto manca Enzo va con le mani dentro Sarracino E triplice Fischio Vince l'equip Contro Redblood Una partita Epica Maschia Ben combattuta D'entrambe le squadre Con episodi Una parte E dall'altra Con colpi Di scena Epici Tre punti All'equip Poi Gran terzo tempo Per due squadre Che in campo Se ne sono veramente Date di santa ragione E' incredibile Come nessuno Sia andato all'ospedale Dopo una partita Del genere Allora Ragazzi Mi sono ricreato Redblood Equipo Una delle partite Il più belle Di sempre Secondo me Per intensità Spettacolo Per i colloarrivati Per la sportività Comunque Qui è finita una partita In cui vi siete veramente Quasi chiamati Ammazzati Alla fine Loro vincono 4 a 2 Mister Per Gigi Capasso Bellissima partita Bellissima partita Loro sanno come hanno vinto I primi tre gol I primi tre gol E allora Questa invece Ma che gol ha fatto Ma che gol ha fatto Esagerato Loro prima però Ti ho visto prima No Prima no Per i colloarrivati